Ciao e benvenuto al terzo giorno del secondo chakra, il nostro chakra arancione. Come sta andando? Senti dei movimenti strani nel tuo interno? In questi cinque giorni ti sono capitate cose strane, emozioni a balla, come si dice, tante cose che non capisci, energie sottili, il lavoro su se stessi, e anche questo, ci sono anche, vengono chiamate crisi di guarigione, no? Alla fine certe cose che prima accettavamo, adesso non le supportiamo più e dobbiamo rispondere, dobbiamo dire di no a questa parte della nostra vita e possiamo accettare quell'altra parte forse più consona a noi. Questo è un po' il lavoro che puoi fare con il Reiki, è un po' il lavoro che si fa a livello energetico con i chakra, con i meridiani, con i nostri campi amprici. Bene, oggi voglio fare in questa nostra terza e ultima lezione per il secondo chakra qualcosa di diverso. Ti farò vedere il mudra, cioè come mettere le mani per questo chakra, e poi ti farò una piccola meditazione, sperando che ti piaccia, per portarti in un luogo tranquillo e essere un po' rilassato o rilassata. Ma prima di fare questo ti voglio ricordare che sono un professionista, da 22 anni lo pratico con passione, sarei dire, dai, si vede un po' anche nei miei video, no? C'è questa cosa proprio che mi piace, mi piace. Al di là di come vadano le cose, mi piace farlo, insomma. E siccome mi piace farlo, ho creato anche un sito, ilmiureiki.com, dove ti spiego che cos'è il Reiki e come puoi farlo semplicemente stando a casa tua se non hai possibilità di frequentare i miei corsi o corsi di altri maestri nel weekend. Bene, dai, allora ti faccio vedere. Subito il mudra è questo, pollice mignolo, vediamo un po' con la telecamera, le altre tre dita devono essere unite. Questo stimolo anche, diciamo così, mettiamo tra virgolette, l'idratazione, perché il secondo chakra è collegato all'acqua, l'idratazione corporea, cioè stimola le nostre acque ad avere una buona circolazione, quindi essere più in salute. E quindi le dita sono così, in apertura le puoi mettere un verso il cielo o puoi anche appoggiarle, sul secondo chakra che abbiamo detto è due dita sotto l'ombelico. E quindi preparati, mettiti comodo. Adesso userò il femminile, così non devo sempre correggere, anche se tu, uomo maschio, mi segui. Parlerò il femminile per semplicità. Quindi rilassati, mettiti comoda, allunga le gambe, mantieni il tuo contatto col terreno se puoi, senti come è il tuo corpo, se riesci a stare sdraiata, magari con la pietra sul tuo, appena sotto il tuo ombelico. Insomma, trova una posizione comoda e appena l'hai trovata inizia a portare l'attenzione sul tuo respiro. Inspiri ed ispiri, lasciando che sia, lasciando scorrere le cose. Adesso chiudo gli occhi, così anch'io posso, diciamo, canalizzare meglio questa meditazione, breve comunque, e questo è solamente per farti vedere come potrai fare su ogni chakra la tua meditazione. Va bene poi per qualsiasi chakra, cambiando piccole cose. E quindi inspiri ed espiri e senti che sei lì, parte solida nel tuo corpo. Inspiri e nell'espiro ti lasci cadere dolcemente nel tuo cuore, lì dove c'è anche la tua anima e senti come pulsa la vita e ti senti parte di un unico corpo, di un unico mondo, di un unico cosmo. Inspiri ed espiri e così lasci andare le tensioni della giornata. Ora ti senti comoda e sicura nel tuo centro e magicamente vedi vicino a te due gardini, gli scendi, scendi questi due gardini, semplicemente, in modo naturale, come faresti nella tua giornata normale, nel corso della tua vita. Scendi due gradini e ti ritrovi magicamente davanti ad una grotta. È fresca, è sicura, senti che è un ambiente giusto per te, è protetto. C'è la giusta aria, ci sono i giusti colori, la giusta luce, ti senti a casa, che bella sensazione, ti senti a casa. E quindi, guardando meglio, noti che c'è come una pozza d'acqua, limpida, cristallina, pulita, direi quasi in colore, che ti attira, attira anche te che non sai nuotare. E quindi entri semplicemente in quest'acqua, ti lasci avvolgere da questa sensazione dell'acqua. senti come non fai fatica a nuotare. È l'acqua stessa che ti spinge a nuotare. C'è un'energia dolce ma forte dentro quest'acqua. E così, mentre ti rilassi in questa grotta, ti accorgi che sulle pareti ci sono come tante piccole pietre di un colore arancione, che brillano e ti donano energia, ti fanno venire voglia di ridere, cantare, di muovere le mani nell'acqua e fare tante schizze, come quando eri bambina. E stai in questa sensazione piacevole. E finalmente ti senti. L'acqua ti aiuta a sentire le tue emozioni. Io mi sento. Io mi sento bene. Io sento le mie acque. Io mi sento a posto con me stessa. E resti in questa posizione, galleggiando, senza fare nulla, assorbendo l'energia di questa magica caverna, piena di luci. Soprattutto fatta di scintille di colore arancio. E così, adesso che hai fatto questo pieno di energia, esci da questa pozza magica. fai i due gradini e ti ritrovi nel tuo cuore. Che esperienza. Che leggerezza. E semplicemente, con un paio di inspiri profondi, e sti racchiando, il tuo corpo. Apri gli occhi, torni qui presente. Oh, mamma mia. Che bella cosa. Mi è piaciuta pure a me. Non sarei voluto tornare indietro, ma l'ho fatto perché altrimenti il video diventerebbe lunghissimo. Beh, questo è un modo di meditare che faccio durante i miei corsi, tramite la visualizzazione, meditazione guidata. Vedi tu, puoi stare in silenzio, o puoi seguire questo tipo di meditazione. E te lo puoi creare per ogni chakra, anche per il primo che abbiamo fatto. La grotta sarà sempre con l'acqua, ci sarà il colore rosso. E così. Prova. Esperimenta. Vedi se ti piace. Fammi sapere se ti piace con un commento. E veramente di cuore ti dico, grazie per seguirmi. E soprattutto grazie per esserti messa in gioco per fare questo percorso che definirei di 21 giorni anche di crescita per te. E quindi a domani con il prossimo video e il nostro terzo chakra. Grazie.